Dopo sei mesi finalmente Guberti e sei visto quanto sei mancato in questi sei mesi, tu è il giulino estivo e sei visto che contributo puoi dare? Sono contento di essere rientrato dopo sei mesi, per me è importante rientrare e comunque dare il mio contributo, ci sono riuscito ma soprattutto è stato importante vincere perché dopo due partite come quella di Verona e quella di Uestabia era importante rifare i tre punti, soprattutto vedendo anche cosa ha fatto pescare Verona quindi siamo contenti, non dobbiamo adesso rilassarci ma dobbiamo sapere che queste prossime 3-4-5 partite sono fondamentali per la volata finale Poi in un momento topico della stagione, insomma avere forze fresche e forze importanti come te, insomma è davvero fondamentale che tu abbia tanti ricambi soprattutto sulle fasce dove si sviluppa maggiormente il gioco di ventura Sì sì sicuramente è importante avere ricambi freschi ma penso che Stefanovic che oggi è rimasto a riposo ci servirà dalla prossima partita sicuramente perché è un giocatore che ha tirato la carretta fino ad ora come tanti altri, come Iori, come altri quindi abbiamo bisogno di tutti, da Pasquato a me a quelli che hanno giocato all'inizio dell'anno siamo tutti importanti e penso che oggi lo sia dimostrato, ho giocato io, poi è entrato Pasquato, ha fatto bene Mari Vives ha giocato un po' di me, ne ha fatto benissimo pure lui quindi va bene così Tu sei l'uomo degli assist, però tanto oggi hanno segnato Pasquato, ha segnato il suo graco magari a Empoli vedremo anche il tuo gol L'importante è che vinciamo poi dopo dei gol pazienza, chi segna segno è uguale Senti una cosa, oggi è una partita splendida la partitura e sapevamo che ci si poteva aspettare questo solitamente però chi manca da tanto tempo alterna partite buone e perdite meno buone invece dal punto di vista fisico un giocatore con la tua struttura adesso che è in condizione dovrebbe riuscire a mantenerla anche nella prossima Sì, il problema di questi infortuni è che quando rientri magari dicono sempre che la prima partita è facile Dalla seconda in poi iniziano le vere partite, non giocando sei mesi comunque è normale che non posso magari essere a livello degli altri posso essere più fresco ma non posso magari avere 90 minuti sulle gambe però se mi sentissi sempre come oggi sarei felice e spero che accada questo